Buongiorno a tutti e benvenuti alla Yori Challenge o come calcio si chiama questa serie di video Yori Yagami sei mio! E ora prendiamo col colore verde vomito e prendiamo mature Ha ragione e prendiamo vice Col colore viola con livello 3 Nessuno! Uno degli sfidanti sappiamo già chi è ed è esattamente quello che ha battuto la precedente sfidante Ovvero come si chiama? Fermi tutti Angel ovvero Goro Daimon Col vestito bianco e poi andremo a scegliere a caso Kiyo Kusanagi e K apostrofo credo sì qualcosa del genere Andiamo a scegliere immediatamente quindi Yori poi vice e poi San Andreas Taimon primo ovviamente Spaccavo la faccia a tutti e andremo a scegliere magari un post dove non abbiamo mai fatto Mangan ningondro Vediamo un attimo Haydn Fleet L'avremmo fatto? Non fatto? Boh lo facciamo qua oggi Perché qua si capisce molto quando c'è da fare le robe perché là c'è la barrettina Poi c'è scritto 0 come potete vedere Perfetto Quando c'è scritto 1 posso fare la mega mossa infinita della vittoria Con il mio porca miseria incomincia a fare l'estio questo Ad esempio posso fare così Ulle ulle ulla Mi sa che è al contrario Fermi tutti Porco L'han cambiata? Ma che vuol dire? Ma E sto qua Si prende un bel schiaffone in faccia Go! Vieni qua bello mio Kiu Sei tu una delle mie nemesi più nemiche o sei Oh ma perché? Non ce la faccio Eccola! E' fanculo Adesso che ce l'avevo fatta? Dannazione voi Ovviamente Il grado di difficoltà è più ampio Negli altri King of Figther Remma Preso Finalmente l'ho preso Quello che c'ha le mosse più ficche e più belle Insieme a Kiu ovviamente Si però se mi fa fare Mamma mia per un pelo Sia l'ho dato Gesù San Bernardo Questo K Se mi sbaglio Fece il suo debutto Non vorrei dire Cavolate Oh In King Puttana Eva Fight 2000 O 2001 E sinceramente non me lo ricordo Anche perché quando sollevo giocare alla sala giochi A questi grandiosi Picchia E' anche duro Prendevo sempre i miei personaggi Preferiti Maremmano Fermi tutti No Oh Ma cosa? Come ti chiami? K Non caccare fuori dal vaso Ma beccato no Fermi tutti E c'è la vittoria per un pelo Non mi interessa uno falso come te Sparisci e non farti mai più vedere Perché io non ho bisogno di altro che due belle guaglione Dietro di me abbiamo vinto per proprio una schiccola di sputo E spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto E ci vediamo alla prossima Sempre con il mitico Yori Yagami Yamagi Yagami Yagami Ciao